Buongiorno, sono Angela Napoli di Parnell Element 14, sono Communication Manager per questa azienda. Parnell Element 14 è un'azienda inglese fondata nel 1939 ed è distributore leader di componenti elettrici ed elettronici, quindi servizi di manutenzione. Il servizio principale di Parnell è un servizio online, ha un catalogo consultabile online con prodotti, oltre 500.000 prodotti. La sede in Italia è a Lainate, in provincia di Milano, con un'amministrazione, con un servizio di business center qui a Milano e i nostri venditori sul territorio. Partecipiamo proprio sul settore del wireless, che è uno dei settori di punta per la nostra azienda per quest'anno. Ci intendiamo a presentare questo prodotto che è il Raspberry Pi, ed è un prodotto che inizialmente è nato a livello didattico, quindi per insegnare agli studenti ad utilizzare un PC e a programmare. È di dimensioni molto piccole, con una carta di credito, e svolge le funzioni di un normale PC. È dotato di un sistema operativo Linux, processore ARM11, clock 700 MHz e ha una RAM di 512 MB. È dotato di tutte le connessioni standard per interfacciarsi con le periferiche più comuni. Dicevo appunto che è nato a livello didattico, ma sta avendo moltissimi sbocchi a livello industriale, grazie anche al suo prezzo, che è 27 euro, che racchiude tutta la parte di componentistica, che è il nostro focus, chiaramente. Però è applicata a una scheda, e quindi diciamo che a un servizio più completo possiamo richiamare una clientela maggiore, chiaramente, perché avveniamo la componentistica a un utilizzo immediato, come questa scheda, che sostituisce un PC. Il costo è molto basso, quindi anche per una semplice prova, anche per curiosità, può chiaramente interessare molto il pubblico, molto più basso.